Grazie mille e grazie agli organizzatori per avermi invitato a questo convegno. Spero di non avere problemi tecnici. È stato davvero interessante sentire quello che stava dicendo Po, perché io non sono d'accordo con questa visione etnocettrica politica del buddismo impegnato. Oggi parlerò di una cosa che mi sta molto a cuore. Parlerò di un argomento caro che ha a che vedere con l'intersezione tra il buddismo, la teoria queer e la suicidologia. Il 23 di giugno 2019, il 26enne Chosin Nguyen, liberiano che lavorava all'università di Yangon in Myanmar, si è suicidato dopo essere stato oggetto di omofobia. Si è avviata la conversazione sulla questione queer e transessuale in un paese largamente buddista che ha consentito un suicidio di questo genere. Dopo la sua morte, Aya Saiya, Sina Saiya Do, un monaco buddista, è stato registrato per quello che poteva essere descritto come una protesta durante una manifestazione. Lui ha chiamato tutti gli omosessuali affinché venissero eliminati, potevano anche essere picchiati a morte. La registrazione di un discorso d'odio di un monaco buddista ci ricorda la piaga della situazione dell'LGBT nei paesi buddhisti. A parte questo, abbiamo l'immaginazione del buddismo inclusivo, pacifista, c'è però un buddismo diffuso che contrasta con versioni fanatiche, militariste e violente. E dunque discutere di gruppi vulnerabili e soggetti a discriminazione non può essere dimenticato soprattutto da leader buddisti come Aya Saiya e i suoi seguaci. C'è un'epidemia di ingiustizia sociale tra i gruppi marginalizzati che genera di stress mentale, ideazioni suicidari e suicidi. Già Emil Durkheim nel suo esame delle condizioni sociali di questi gruppi ha indicato il fatto che l'intertenimento della vita non può essere ridotto semplicemente alla patologia individuale senza considerare l'aspetto sociale. Il caos, siccome l'esperienza umana e delle negoziazioni superficiali con script sociali contraddittori, spesso causa di stress mentale a tutti in qualche momento della vita. A che l'ideazione suicidaria è una conseguenza comune che spesso accade nella vita di una persona. Tuttavia, la frequenza e l'intensità dello stress mentale e dell'ideazione suicidaria, i tentativi di suicidio e poi il suicidio vero e proprio, sono statisticamente molto più endemiche tra le popolazioni emarginate che fanno fatica rispetto ai copioni della società predominante. Le aspettative sociali, le normative predominante, nel senso l'accofiano, ha una caratterizzazione prototipica, predominante, che è simbolica, ma potente. E a che vedere con questa idea oppressiva contro la quale tutti i membri della società devono negoziare e svolgere la propria individuazione e l'espressione identitaria con un approccio etnocentrico, classista e con un approccio patriarcale eterosessuale. Di conseguenza, grosse parti della società fanno fatica a svolgere il proprio ruolo sociale con entità interconnesse. Vicino al centro l'accofiamo, che crea margini ulteriori per salvaguardare il proprio stato mentale. Gli ordini sociali ingiusti sono elementi che producono varianti per tutta una serie di persone, in base al colore della pelle, alla razza, alle etnicità, ai poveri, alla classe lavoratrice, persone atipiche, persone di diverso orientamento, queer o quant'altro, e complessivamente nei confronti delle donne che nella società patriarcale sostituiscono esseri umani inferiori rispetto alla classe maschile. Di fatto, recentemente, gli studi accademici sul suicidio, la suicidologia, ha preso una variante sociale. Se i buddhisti riescono ad accettare la predominanza delle condizioni sociali per l'esperienza concreta della sofferenza, nel distress mentale, nell'ambito del suicidio, e rifiuta l'ultimo capitalismo che individualizza e patologizza la sofferenza per produrre una motivazione per sostenere le ingiustizie sistemiche e le iniquità strutturali. Però nell'era dell'illuminismo, il discorso predominante in Europa e in Nord America nel XIX secolo, intorno al 1870, Michel Foucault, afferma, o meglio, ha portato il suo studio all'invenzione dell'omosessuale come un'identità essenzializzata nell'ambito medico. Ugualmente, l'eterosessualità è emersa come una categoria predominante, come controparte. Come le persone LGBTIQ più mostrano spesso stress mentale e tendenza al suicido? Non per motivi psichiatrici, ma per stigmatizzazioni sociali. Soprattutto il fenomeno è predominante tra i giovani e la gravità del problema è evidente e studiata nell'ambito dei trans. Sono stati condotti diversi studi sulla popolazione trans da Globe North indicando la propensione al suicidio che varia dal 29 al 41%, soprattutto tra gli individui trans identificati. La maggior parte delle persone trans provano un'oppressione giornaliera che porta a una prevalenza elevata di depressione, di azioni suicidarie. La ricerca dimostra chiaramente che i trans non vengono affrontati correttamente. Abbiamo visto l'invenzione dell'omosessuale suicidario come un soggetto patolocizzato, soprattutto alla fine del 1900. La ricerca indica che la stigmatizzazione sociale e l'immaginazione è il fattore fondamentale della salute mentale tra l'LGBT e Q. Tra queste persone spesso si dice anche, in modo semplicistico, che la religiosità è generale, è come un'inoculazione. e in un certo senso è, diciamo, una vaccinazione contro il suicidio. È anche contraddittoria. La ricerca attuale è agli inizi. Manca complessità, manca anche di analisi intersettoriali. Senza considerare il contesto specifico religioso, l'uso, l'utilità degli studi sociali, non riescono a inquadrare bene il fenomeno. C'è un'indicazione chiara che la religione può funzionare ugualmente come un fattore di rischio o come una sorta di inoculazione per gli individui LGBTQI+. In altre parole, è una situazione complicata e dipendente dal contesto. Gli effetti della religione di tipo buddista sul suicidio è insufficiente, nonostante si affermi ripetutamente che le pratiche buddiste proteggono contro le azioni e le ideazioni suicidare. I ricercatori hanno iniziato a sviluppare una prospettiva buddista specifica sulla prevenzione del suicidio, per esempio per il Giappone, un paese che ha un tasso di suicidio molto elevato rispetto ad altri paesi con popolazione buddista e mayana. Per esempio per molti giapponesi il buddismo, invece di essere una pratica immersiva, è una sorta di contesto culturale tradizionale così come lo shintoismo e il neoconfucianesimo. E certamente non si può negare che il movimento per la prevenzione del suicidio guidato dal buddismo in Giappone vede l'esposizione sui media che ha un'efficacia piuttosto elevata, così come il contributo dei monaci buddisti. L'intersezione queer e religione è complessa, soprattutto nei discorsi attivisti, mentre la religione ha forme vestigiali di offerta governativa che spesso appartengono a una situazione complessa, abbiamo espressioni LGBTQ+, che si pongono all'estremo opposto. Questo io l'ho chiamato omosecolarismo. In questo omosecolarismo, queer da una parte è religioso, d'altra parte sono interpretati come elementi antitetici reciprocamente esclusivi. Qualunque tentativo di fermare questo imposto omosecolare all'interno di LGBT+, e i suoi diritti, viene osteggiato da una retorica transfobica, omofobica, molto popolare, utilizzata all'interno delle organizzazioni buddiste conservatrici, da leader buddiste e da paesi tradizionalmente buddiste in Asia. All'interno delle cerchie buddiste occidenzializzate moderniste, le risposte alle domande che hanno a che vedere con la diversità di genere o sessuale possono variare dalla condanna aperta all'indifferenza della comunità LGBTIQ+, così come avviene tra i cristiani, gli ebrei, gli islamici e gli hindù. Qui vediamo un fattore fondamentale nell'uomo e transfobia buddista moderna e la discriminazione LGBTIQ+, e la loro stigmatizzazione. Durante questi esercizi di proof testing, i leader buddisti, i conservatori influenti e i pensatori vanno a gonfiare, come dire, categorie aliene e complesse di sesso, genere e comportamento sessuale che si ritrovano nella letteratura canonica buddista con una performance contemporanea di queerness. Questi proof testing nel contesto dottrinale è nella migliore delle ipotesi non sincera a livello ermeneutico e fuorviante e questo semplicemente si traduce in omofobia e transfobia. I discorsi buddisti anti-LGBTIQ+, dimenticano la complessità delle tradizioni buddiste che hanno accolto prospettive diverse, spesso contraddittorie, sulla queerness o la transessualità nel corso del tempo e nelle sfere culturali più diverse. Tuttavia, è necessario evidentare che le tradizioni buddiste premoderne non hanno essenzializzato l'orientamento sessuale come identità, come i discorsi europei del XIX secolo hanno fatto. Inoltre, le categorie LGBTIQ+, di Global Northern mappano in modo disagiato il buddismo indigeno e i concetti asiatici che hanno a che vedere con il sesso e il genere e il comportamento sessuale. Si può affermare che, ed è qui a livello filosofico di base, che il buddismo riguarda le attività sessuali come attualizzazione di un attaccamento nella forma di sensualità raga. E questo ha a che vedere con le emozioni affliggenti fondamentali che formano ostacoli alla liberazione e all'illuminazione. Tuttavia, questo non rende tutto il buddismo un movimento negativo nei confronti del sesso. Le emozioni affliggenti come quelle del desiderio, della rabbia, della confusione sono anche opportunità per coltivare la condotta giusta e una mindfulness corretta. Per i monaci, il codice monastico prevalentemente descrive il celibato, prescrive il celibato all'inizio del buddismo. Le proibizioni socio-legali erano in vigore contro qualunque violazione del celibato per i monaci. Il vinaya impediva anche categorie del terzo, quarto genere o sesso nell'antica parte meridionale dell'Asia a parte il discorso maschile e femminile. Non potevano partecipare pienamente, non potevano essere ordinati nella comunità monastica. Queste categorie erano tanjaka, cioè deficitare dal punto di vista del genere o spesso venivano definiti come eromafroditi. Probabilmente questo denota condizioni intersessuali e specifiche vandatsa e vandjana ha sono state eliminate dal sangar per evitare qualunque stigmatizzazione discriminazione prevalente nella parte sud dell'Asia contemporanea della sessualità sesso genere normativo. si può definire anche come atteggiamento sansarico all'inizio del buddismo che non si riflette necessariamente negli atteggiamenti nirvanici e quel sesso di liberazione nirvana non è la caduta necessaria di questi desideri ma c'è anche il no sesso barra genere. La tensione nelle tradizioni buddiste tra sansara karmico e bodhi nirvanic come orientamenti nelle tradizioni buddiste è illustrato perfettamente nell'esempio degli atteggiamenti buddhisti verso l'uguaglianza di genere che sposa a livello karmico di sansara delle visioni patriarcali oppressive della nascita femminile non favorevole. allo stesso tempo il primo buddismo ha accettato che il sesso e il genere non è statico anche all'interno di una stessa vita il sesso e il genere possono effettivamente variare. È molto più importante pensare che i regolamenti monastici del primo buddismo vinai accettavano la fluidità e il cambiamento di sesso genere. Questi cambiamenti vengono confermati in maniera pragmatica dai buddha e ridiretti alla nuova comunità. In più un cambiamento di sesso o di genere in se stesso non era visto come un impedimento all'ordinazione. Il Mula Sarva Stivada Vinaya spiega che un impedimento all'ordinazione accade soltanto dopo il terzo cambiamento di sesso o di genere. Su questa base i trans individui dovrebbero essere al sicuro della discriminazione religiosa anche a livello organizzativo nel buddismo. In termini di etica laica sessuale l'applicazione universale del Dharma liberatorio buddista non era impattata dalla marginalizzazione dalle regolamentazioni socio-legali naturalmente il primo buddismo le fonti del primo buddismo inquadrano Pandaka e Ubatobyan Nyanaka in termini di ostacoli karmici alla pratica del buddismo anche la Bidharma Samukkaya nega ai laico o a qualsiasi sanda o Pandaka ma c'è anche una chiara evidenza di un superamento soteriologico della stigmatizzazione socio-biopolitica del terzo e quarto genere o sesso questo si può ritrovare nelle tradizioni del Brahma Jala Sutra questo discorso del Mayana formula un'etica universale del Bodhisattva affermando esplicitamente il potenziale di illuminazione di tutti i sessi e generi la stigmatizzazione delle stesse attività scusate delle attività sessuali dello stesso sesso nella cultura buddista soltanto durante e dopo il periodo Kushana della storia del sud-est asiatico quindi più o meno dal terzo quarto secolo e io ho già pubblicato sull'argomento prima quindi non farò una diversione comunque è diventato chiaro che il valore procreativo eteronormativo nucleolare dell'era indica Kushana per quanto riguarda la sessualità nelle tradizioni e l'influenza dei compendi buddhisti come le Yogachara Bhumishastra e Abhidharma hanno dato origine a questa attitudine negativa negativa nei confronti del sesso e quirofobica che è prevalza nel Tibet nel neoconfucianesimo anche nel buddismo cinese e coreano nelle tradizioni giapponesi sono stati sviluppati attitudini di conflitto contro le relazioni dello stesso sesso che includevano anche delle relazioni strutturate sull'età da questo background non sarà sorprendente che dei movimenti di buddismo transnazionale giapponese come Sokagaka International e anche la branca americana di Nishiongan Jodo Shishu Pure Land Tradition chiamata le chiese buddiste dell'America contano veramente molti sostenitori di LGBTQ plus per le forme contemporanee di buddismo nel nord del mondo ci sono moltissime pratiche buddiste adattate proprio come modalità di potersi rivolgere ai bisogni spirituali e psicologici di tutte le comunità c'è anche un incremento di voci inclusive di insegnanti LGBTQ plus nelle tradizioni moderne del buddismo ma non soltanto un progetto di modernismo globale e transnazionale le voci che includono il queer e le pratiche che includono i queer sono emerse sempre di più nel buddismo socialmente impegnato pensiamo al Taiwan dove c'è un grande supporto per la comunità LGBTQ nel 2014 per esempio questa monaca vietnamita scusate taiwanese è stata una delle prime a celebrare un matrimonio dello stesso sesso Pra Varadamo ha sviluppato un blog dedicato al neobuddismo per praticanti queer sia per il networking che per l'insegnamento in Giappone un prete Jodo Jodo Shinshu Kodo Nishimura che ha anche un'attività di truccatore è diventato il volto internazionale queer del buddismo giapponese quindi possiamo dire che questi esempi di voci buddiste queer sono fondamentali a prevenire il suicidio nei buddhisti della comunità LGBTQ la morte autoprovocata e il suicidio sono da molto dibattute nell'etica buddista di solito il buddismo condanna la terminazione della propria vita come una azione contro i cinque precetti soprattutto i primi il primo non fare del male ahimsa i testi canonici però riportano casi di coloro che hanno raggiunto l'illuminazione gli arat pur essendosi suicidati se pensiamo alla categoria di Durkheim del suicidio altruistico la morte volontaria di esseri altamente realizzati come buddistata per il beneficio degli altri si trova nei testi buddhisti Indic questi casi sono di solito narrati e sono un segno di distaccamento dal corpo e un segno ultimo di dana generosità e compassione karuna in Asia orientale una traduzione di autoimmolazione altruistica emersa soprattutto nelle scritture del Sadharma Pundarika Sutra capitolo 23 22 nella versione sanscrita questo paradigma della scrittura è ritornato in voga nei tempi moderni come forma di protesta dell'attivismo sociale durante la guerra del Vietnam e poi è stato ripreso nel 2008 tra le comunità tibetane nel Tibet controllato dalle forze cinesi e tra i tibetani in esilio quindi a parte delle visioni etiche per quanto riguarda la morte autoprovocata dalla prospettiva della teologia sulla liberazione buddista o sulla darmologia della liberazione è la chiave al prevenire queste violente impronte mentali e l'estesa sofferenza associata con il suicidio sta cambiando le attitudini della società e dell'individuo nei confronti delle persone LGBTQ plus e seguendo la queer darmology di Roger Corless o Buddhist Theology Geosexuality di Jos Cabezon propongo un ripensamento della prospettiva buddista sulla discriminazione sul suicidio accettando di maniera consapevole le limitazioni contestuali dei pregiudizi di scrittura di tradizione andando a rileggere le scritture in una maniera di pubblica darmologia andando a riapplicare in un contesto contemporaneo gli impulsi liberatori per inclusione e giustizia sociale le persone marginalizzate e sofferenti meritano un'accettazione profonda e consapevole e un'azione amorevole da parte dei buddhisti per alleviare il dolore individuale e la discriminazione sistemica il punto di partenza della liberazione dei buddhisti qui è riconoscere che la società e le dimensioni strutturali del karma ovvero azione e riaffermare la relazione del karma alla visione corretta o retta visione del non-se e soprattutto per quanto riguarda la filosofia maiana la vacuità di esistenza inerente di tutti i fenomeni incluse le persone dove i buddismi tradizionali vernacolari accomodano la possibilità di essere queer di solito viene fatto senza sfidare la nozione simplistica di cattivo karma ad esempio a Myanmar in Birmania dove Ashin Asayar è omofobico e induce violenza questo potrebbe essere l'estremo dello spettro ma nonostante ciò anche i monaci buddisti della Birmania più aperti cercano di praticare l'inclusività dell'essere queer sempre con riferimenti alla nozione di cattivo karma che questo deve essere assolutamente superato quindi pensatori buddhisti che includono i queer come venerabile Chao Wei e Pra Baradamo sottolineano l'importanza di cambiare delle visioni semplicistiche che sono veramente molto fondate nel cattivo karma in relazione a LGBTQ riconoscere riconoscere la forza mortale della stigmatizzazione della società nei confronti della comunità LGBTQ come dice venerabile Chao Wei non ho ucciso Boran ma Boran è morto a causa mia questo è una citazione della biografia di Zhu Yi nel volume 69 del Book of Jean dove lui Boran fu assassinato dal cugino mentre l'amico stava lì a guardare senza far nulla ora in questo contesto cosa facciamo stiamo puntando a dei termini di responsabilità karmica di coloro che non fermano le uccisioni i suicidi LGBTQ plus dovuti all'oppressione sociale sistemica quindi diciamo che prendere a presupposto il bad karma il karma cattivo non sta nel cuore del buddismo nonostante le fondamenta complesse del non sé della vacuità le azioni passate che portano a fenomeni esperienze di oggi che si chiamano karma passato spesso nel discorso simplistico popolare buddista diventano dei giudizi e vengono essenzializzati come gay disabile eccetera quindi ci si congela su un individuo senza avere nessuna considerazione per la comprensione profonda filosofica dalla manifestazione che ogni vita e ogni ritorno nel buddismo è necessariamente un'espressione di una continuità senza identità continuità priva di identità la persona empirica o il soggetto nella attuale e fluida manifestazione semplicemente esprime un continuum karmico delle possibilità passate e quindi non è né responsabile né accusabile non può essere moralmente giudicato per le vite precedenti qualsiasi manifestazione umana ha bisogno di essere esaminata come una preziosa opportunità per dei meriti contestuali piuttosto che considerare ogni persona come limitata e etichettata da un'aspettativa prescritta dalla società le scritture che presentano la società buddista la tradizione buddista sono accessorie e contestuali al Dharma ma non sono il Dharma di per sé questo è anche vero nel caso dell'eteronorma nucleolare patriarcale che vediamo qui che formula l'aspettativa concreta e normativa sull'aico buddista di stabilire relazioni dominate dal patriarcato dalla gerarchia clan famiglia eccetera eccetera la teoria queer qui si rende utile per andare a scavare a sfidare queste narrative della società dannose attorno al sesso al genere alla sessualità e oltre la nozione di Judith Butler è molto ricettiva per le letture filosofiche buddiste sia la queer theory di Butler che le filosofie buddiste insistono su una visione non essenzialista dell'identità umana e stressano il contesto e la natura dell'esperienza umana e le negoziazioni o relazioni in termini buddisti potremmo rifraseggiare questo parlando di condizioni dipendenti della natura della natura dell'esperienza samsarica e del sorgere inter o codipendente queste narrative causano contribuiscono e portano la sofferenza al suicidio l'atto del suicidio non può essere soltanto ascritto all'individuo perlomeno non esclusivamente la stigmatizzazione la marginalizzazione sono fattori decisivi nel nesso contestuale del prendere questa decisione e dell'agirla quindi dal mio punto di vista impegnato e radicale e buddista tutti coloro che non lavorano proattivamente per la giustizia sociale hanno le conseguenze karmiche della sofferenza portate dall'ingiustizia sociale nelle varie teorie sul karma buddista la dimensione materiale ed etica delle azioni opposte agli aspetti materiali e ritualistici ha la preponderanza il karma viene eticizzato e c'è un continuo bisogno di rieticizzare il karma però per la giustizia sociale cosa significa? significa sfidare il discorso popolare sul karma il buddismo vernacolare su aspetti di determinismo individuale riduzionista e la mancanza di complessità e il focus sull'intenzione queste sfide devono prevalere sulle nozioni deterministe riduzioniste sulla relazione tra caso e effetto in termini filosofici karmapala sambanda questo sta comunque nella lunga tradizione delle discussioni filosofiche del karma buddista la nozione della linearità tra la responsabilità personale del karma è stata già rifiutata nelle mili d'ampagna una delle confutazioni più famose è stata da parte di Nagarjuna nel Mula Madhya Makarika quindi è molto importante qui viene definita l'intenzione anche nel Deep Penetration of Wisdom Sutta dell'Anguttara Nikaya monaci io dichiaro che il karma è intenzione quindi il karma buddista è dipendente dall'intenzione al punto che anche le azioni accidentali e ignoranti non causano alcuna offesa come descritto nel Milinda Pagna oppure il karma non intenzionale non causa gravi risultati negativi come nel Satya Siddhi Sastra Cetana come karma d'altro canto significa che coloro che pianificano predicano e praticano pensano dicono fanno l'esclusione anche se lo fanno nel nome del dharma scusate mal compreso essi coproducono e condividono il duca il karma del lgbtiq dell'esperienza scusate da parte della comunità lgbtiq della sofferenza e quindi sono dei co-creatori di questa sofferenza ed è necessario opporsi a queste narrative sociali che causano discriminazione e sofferenza sistemica questo può accadere anche nel quadro più ampio delle etica buddista dei primi sutra con focus sull'uguaglianza di potere non coerzione rispetto per le relazioni esistenti tra partner adulti piuttosto che andare a interpretazioni tardive che si conformano ai pregiudizi sociali prevalenti inoltre inoltre la retta visione sulla vacuità inerente dei fenomeni interdipendenza la processualità e fluidità dovrebbero permettere un'accettazione non giudiziale delle performance di genere espressione soggettività oltre la legge binaria maschio femmina particolarmente in visione della reazione pragmatica del buddha ai monaci che cambiavano genere quindi trans buddhist può essere un termine utilizzato proprio per spiegare paradigmi di cambiamento di genere andando ad accettare il cambiamento di genere fisico e mentale e questa è semplicemente una delle esperienze che occorrono naturalmente nel sansara quindi accettarla come tale ho suggerito che queer dermology o comunque qualunque pratica della liberazione buddista socialmente impegnata operano con un parametro a cinque canali riflessività e posizionalità ermeneutica impegnata per gli oppressi riconcettualizzazione del pensiero buddista significato o risignificato dei paradigmi per la liberazione dei marginalizzati e applicazione di pratiche liberatorie quindi la cura buddista per la vita queer deve iniziare da una posizione di riflessione del privilegio e intenzione questo primo quindi stare al fianco dei nostri amici mentre completano un assassino commesso in realtà dall'oppressione strutturale non è un'opzione quindi dobbiamo iniziare a veramente sfidare il riduzionismo del karma che abbonda nel contesto popolare vernacolare buddista dobbiamo farlo in maniera ermeneutica secondo livello e concettuale terzo livello così che il discorso che fornisce una giustificazione dharmica per la morte autoprovocata possa cessare invece di giustificare l'individualità di marginalizzazione stigmatizzazione disagio mentale e ideazione suicidale causata dall'opressione sistemica dobbiamo andare ad approfondire i paradigmi del buddismo queer modelli di ruolo e fornire un supporto una visibilità agli insegnanti buddhisti facenti parte della comunità lgbtq plus a leader e praticanti così che pratiche e spazi inclusivi possano emergere quindi l'applicazione è la cosa importante questo è evidenziato nel lavoro delle comunità del venerabile Chauwei Pravaradamo Lama Rod Owens e un numero sempre crescente di altre voci influenti nel buddismo e con questo concludo grazie grazie